Per cominciare ad allenare la verticale a una mano, c'è bisogno prima di saper fare una solida verticale a due mani, contenuta lunga, sia in versione gambe unite che divaricata. Io vi consiglio di arrivare a un minuto circa. Il prossimo passaggio è quello di imparare la verticale con le mani un pochino più vicine fra loro, esattamente con i polsi sotto le spalle. Dedicate il giusto tempo a questo passaggio in cui imparate una verticale straddle corretta, ovvero quella in cui, vista di profilo, i piedi sono un pochino rivolti verso la pancia. Questo vi porterà ad imparare una one arm and stand in forma buona. Al contrario, imparare una verticale a due mani divaricata in forma inarcata vi porterà ad imparare la one arm nella stessa maniera, di conseguenza tecnicamente meno corretta, oltre che con più rischio di infortuni, essendoci più forze in gioco sulla colonna vertebrale. Questi sono i primi sbilanciamenti one arm in forma corretta, in cui si sposta il bacino un pochino a destra e un pochino a sinistra, in modo tale da riuscire a staccare il palmo della mano. Anche solo di 1-2 cm da terra all'inizio va benissimo. Cercate di fare questi sbilanciamenti con le gambe divaricate, non incominciate in full, come vi mostro in questa clip, anche se all'inizio vi sembrerà più comodo, perché poi si farà fatica quando si andranno a fare progressioni più difficili con meno assistenza. Ricordate che è anche lo sguardo importante, partiamo guardando al centro, ci sbilanciamo a destra e guardiamo un pochino più verso la mano destra, poi lo sguardo ritorna al centro, poi andiamo a sinistra e guardiamo un pochino di più verso la mano sinistra, poi chiaramente ritorniamo in mezzo con lo sguardo. Non contate come buoni sbilanciamenti in cui riuscite a staccare il palmo ma non riuscite a riandare al centro, e neanche se riandate al centro ma non c'è la tenuta solida a due mani. Cercate di non sbilanciarvi mai con il bacino al centro e il piede sinistro che si avvicina alla mano sinistra e il destro che si avvicina alla mano destra, semplicemente perché questo è un altro esercizio. Sbilanciarsi col bacino come nelle clip precedenti vi porterà ad imparare questa verticale a un braccio, fare questi ultimi sbilanciamenti vi porterà ad imparare una one arm flag che è un esercizio che arriva più avanti. A questo punto possiamo passare ad allenare la verticale a un braccio con 5 dita di assistenza, ricordando che il braccio della mano dell'assistenza è piegato e la mano è esattamente dove era prima in verticale a due mani. Cercate sempre di essere focalizzati sul piede opposto, quando vi sbilanciate a sinistra sul piede destro e quando vi sbilanciate a destra sul piede sinistro, perché è quello che tenderà ad andare verso la schiena, quindi a farvi sbagliare. Ricordate sempre di considerare valide le tenute che si concludono con la verticale a due mani, quindi questo è un errore. Questa verticale invece la consideriamo valida perché chiaramente c'è la tenuta a due mani alla fine della buona arma assistita. Anche se ci saranno tanti errori, quando in un allenamento riuscite a fare 8-10 tenute con 5 dita di assistenza, possiamo ridurla e passare a 3, come al solito considerandole valide soltanto quando si concludono con una tenuta di verticale a due mani solida. Il prossimo step consiste nell'avere 2 dita di assistenza anziché 3, che saranno non pollice indice, ma indice medio. Quindi questo step sarà abbastanza impegnativo perché non abbiamo il pollice che aiutava tanto. Ricordate sempre che quando c'è poca assistenza partite sempre da 5 dita e poi la riducete, non partite direttamente con poca assistenza. A questo punto andiamo a introdurre una nuova regola. Nella verticale a due mani le dita fanno pressione a terra e recuperano l'equilibrio avanti e dietro. In one arm c'è anche l'equilibrio recuperato lateralmente, quindi se sono sul braccio destro e sto cadendo a destra, farò pressione sul palmo dalla parte del mignolo. Se sto riandando a due mani farò pressione sul palmo dalla parte del pollice, in modo tale da recuperare l'equilibrio anche a destra e sinistra. Se dovesse mancare questo meccanismo la verticale sarebbe meno statica, sicuramente più mossa perché il recupero dell'equilibrio a destra e sinistra sarebbe dato dai piedi che si muovono. Oppure si rimane con i piedi fermi, ma comunque si tende a fare un piegamentino con il braccio rendendo la verticale molto più pesante di quella che poi dovrebbe essere, quindi riducendo sicuramente i secondaggi. A questo punto con la pratica arriverete a fare una verticale a un braccio con un solo dito di assistenza, sempre focalizzati sulla gamba opposta che non va verso la schiena e su questo nuovo recupero laterale che abbiamo visto nelle ultime clip. Ovviamente dandole valide soltanto quando c'è la tenuta a due mani finale. Quando si arriva a 5-10 secondi con un dito di assistenza non c'è bisogno di diventare super efficienti in quello, ma passare allo step successivo. Sempre focalizzati sul recupero laterale della mano del one arm e sempre focalizzati sulla gamba opposta che non deve andare mai verso la schiena. Ricordate sempre che le prime verticali a un braccio non si imparano con la mano in alto, quindi questo ovviamente è un errore, ma si imparano con la mano che prima faceva assistenza vicino a terra. Quindi questa sarà la forma delle vostre prime verticali a un braccio. A questo punto cercando di rimanere focalizzati sul recupero laterale della mano che abbiamo visto prima, cercate di rimanere sbilanciati con il bacino dal lato del one arm, quindi cercate di non riscappare al centro dove la verticale è più comoda, chiaramente a due mani, e arriverete a fare le vostre prime tenute di one arm and stand. Meglio ancora se poi mettete l'altro braccio orizzontale e la forma sarà ancora più buona. ... ...